Ben ritrovati dalla redazione. Le fiamme gialle salvano un'anziana. Era riversa a terra sotto la pioggia battente e in preda a un malore. Sono stati militari della Guardia di Finanza a salvare un'anziana signora di circa 85 anni che ieri, 11 maggio, si è sentita male mentre camminava a granzette. La donna era distesa sul ciglio della strada. Impossibile per lei muoversi, anche a causa di un'invalidità. Addio a Paolo Tiribello, amato artista. Lutto a Boarapolesine che perde Paolo Tiribello, 64 anni, istrionico, artista, autodidatta, con un passato da collaboratore scolastico, molto amato e stimato da tutti. Nativo di Boarapolesine ma da molto tempo residente a Badia Polesine. Aveva all'attivo ben sette raccolte pubblicate a partire dagli anni 80. Intrappolato nel furgone in fiamme è grave. Il furgone irriconoscibile divorato dalle fiamme è un giovane gravissimo, trasportato con l'elisoccorso con fratture, gravi ostioni. E il terribile bilancio dell'incidente avvenuto ieri, 11 maggio a Cavanella Po, sulla strada Arginale. L'incidente, alle prime ricostruzioni, pare sia stato causato da una fuoriuscita autonoma. Non è escluso che la pioggia e il manto stradale scivoloso abbiano contribuito al ribaltamento del mezzo. Romea, commerciale, Cavarzere e Cona al tavolo con Salvini. I sindaci di Cavarzere e Cona, Pier Francesco Munari e Alessandro Aggio, ad un proficuo incontro con il neoministro per le infrastrutture, Matteo Salvini. Nel dialogo, insieme a loro, anche l'assessore ai lavori, Bublici, Angelo Mancin, in rappresentanza del comune di Chioggia. Tra gli argomenti ovviamente la Romea commerciale, al centro dei pensieri di tutti i sindaci del Polesine e della bassa veneziana. E per finire, un nuovo murales al Museo del Presepe. Del Tartes Barca Frassinelle con un murales realizzato davanti al Museo del Presepe e dunque con un tema sacro. A realizzarlo Giulia Monzani, artista madonnara, che ha affrontato anche la pioggia di questi giorni per portare a termine la sua opera.